Musica Basilicata in zona rossa per 15 giorni, scuole chiuse fino al 5 marzo, eccetto asili e materne. Musica Zona rossa l'appello di 22 sindaci lucani, mentre i cittadini giudicano la misura estrema. Musica Procede a macchia di leopardo e a singhiozzo la campagna vaccinale in Basilicata. Musica Anche a Matera la mobilitazione di Noscorie di Puglia e Basilicata. Musica Calcio a 5 e terza sconfitta di fila per il CMB Matera. A Eboli finisce 2 a 4. Musica Ed eccoci nuovamente in studio. Lo avete ascoltato dai titoli Ampio spazio dedicato all'emergenza coronavirus e alla zona rossa in cui la Basilicata si appresta ad entrare nella quale resterà per 15 giorni. Intanto le scuole, eccetto asili e materne, saranno chiuse almeno fino al 5 marzo. Facciamo il punto nel servizio. Da lunedì primo e fino al 5 marzo scuole chiuse in Basilicata, tranne nidi e materne, c'è l'ordinanza del governatore lucano Vito Bardi. L'ingresso in zona rossa deciso dal governo nazionale a causa della rapida crescita dell'indice di trasmettibilità del Covid-19 ha determinato la necessità di predisporre una serie di misure per contenere anche sul piano locale la diffusione del contagio. A tal scopo il presidente della regione ha emesso una nuova ordinanza con cui le istituzioni scolastiche della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ed educativa in modo che il 100% delle attività sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata dal 1 marzo fino al 5 marzo 2021. La situazione in Basilicata, ha ricordato Bardi, è decisamente sotto controllo. Siamo però consapevoli, ha sottolineato, del grave disagio che questa chiusura comporta per le famiglie e soprattutto per le giovani generazioni, ma la decisione è stata presa per ridurre al massimo il rischio di conseguenze ancora più pesanti derivanti dal contagio del virus. Confidiamo, come sempre, nel comportamento dei cittadini improntato al massimo rispetto delle regole per evitare, ha concluso, che la cosiddetta terza ondata possa vanificare quanto di positivo è stato fatto fino ad oggi. Intanto, il ministro della Salute, Roberto Speranza, visti una serie di riferimenti normativi, e, sentito il presidente della regione Basilicata, sabato 27 febbraio è emanato anche l'ordinanza in materia di misure di contenimento del contagio nella regione Basilicata, che sarà classificata dunque come zona rossa per i prossimi 15 giorni. E la decisione di entrare in zona rossa non è stata ben accolta da 22 sindaci lucani, che si sono rivolti direttamente al ministro Speranza e al presidente della regione, Bardi. Sentiamo. Rendere tutti i comuni della Basilicata zona rossa è una decisione impropria e sommaria. Lo hanno scritto 22 sindaci lucani al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al presidente della regione, Vito Bardi, per chiedere che venga effettuata una valutazione precisa degli indici di contagio in ogni comune e che si acceleri nella campagna di vaccinazione. L'impennata dell'indice di contagio R-T è dovuta a una diffusione di focolai circoscritti, hanno ribadito i sindaci dei comuni, nei quali i casi di positività al coronavirus non superano la soglia di allerta. Ogni sindaco, si legge ancora nella nota, ha sempre ottemperato alle richieste di collaborazione fattiva, onorando le proprie facoltà e cercando di predisporre ogni iniziativa volta alla tutela del cittadino e della salute pubblica. Per questo, si legge ancora nella lettera, le restrizioni imposte risultano per i primi cittadini, inique, vessatorie e mortificanti, con inevitabili ricadute sul tessuto cittadino e commerciale. Tornano a crescere i positivi al coronavirus in Basilicata. Facciamo il punto con gli aggiornamenti dalla Task Force. Sono 101 cittadini residenti in Basilicata risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. a fronte di 1.389 tamponi molecolari analizzati. Sono stati invece 11.048 i test rapidi. E il dato aggiornato fornito dalla Task Force regionale preposta a gestire l'emergenza in Basilicata. Sono state 20 invece le guarigioni registrate. Con questo aggiornamento, il numero dei lucani attualmente positivi al coronavirus sale a 3.818. Cresce anche il numero delle persone affette da Covid ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane. Sono 95, 6 in più rispetto al giorno precedente. 10 di loro si trovano in terapia intensiva. 6 al San Carlo di Potenza e 4 al Madonna delle Grazie di Matera. Tra i comuni con maggiori positività riscontrate nelle ultime 24 ore, ancora una volta Matera con 16 positivi, 15 invece a Sant'Arcangelo e 14 a Potenza. Sono 4 i tamponi positivi registrati a Montescaglioso, comune nel quale nei giorni scorsi si è verificato un veloce aumento dei casi. Abbiamo raccolto alcuni pareri dei cittadini materani sulla zona rossa nella quale entrerà la Basilicata. Abbiamo qualche responsabilità per l'aumento dei contagi? Sicuramente siamo stati molto irresponsabili nel corso di questi giorni, però io non penso che siamo stati talmente poco responsabili da poter entrare in zona rossa. Penso che almeno un altro po' si poteva aspettare. Comunque penso che, secondo me, a breve ne usciremo perché l'RT scenderà. Contanto che è salito dallo 0,9 all'1,51 nel giro di una settimana, penso che molto probabilmente con la zona rossa i focolai spariranno. Io penso che certamente ce l'abbiamo un po' tutti perché non usiamo le attenzioni dovute. La mascherina, il lavaggio delle mani, tutto quello che ci dicono dovremmo fare perché se no questa situazione si prolunga sempre di più a discapito dei negozianti, a discapito di noi tutti. Il popolo materano si sta comportando abbastanza bene, nel senso che io vedo gente ma non vedo neanche troppi assembramenti rispetto ad altre regioni. Quindi onestamente penso che si poteva passare all'arancione o comunque fare qualcosa di graduale, perché passare da una gialla in cui si prometteva addirittura una bianca ad una rossa in cui, insomma, sì, così improvvisamente è un po' un peccato perché lascia tutti un po' amareggiati. Quindi una decisione che arriva un po' inaspettata? Esattamente perché sinceramente non si sapeva nulla dei giorni precedenti ma tutto è accaduto in un pomeriggio in pratica e aspettarsi una zona rossa diciamo che ha colpito un po' tutti all'istante. Io penso che non ce l'aspettiamo, non era doveroso applicare la zona rossa in questa regione, però dovremmo subire purtroppo. Io mi aspettavo un arancione scuro, un arancione massimo, però vedendo questa situazione anche dell'indice di contagiosità più alto d'Italia a me sembra un po' esagerato ma nello stesso tempo penso che da una parte sia pure meritato. Intanto in Basilicata sembrerebbe procedere a singhiozzo la campagna vaccinale. Alle 8 di domenica mattina il report aggiornato dal governo sui vaccini segnala che delle 55.775 dosi consegnate in Basilicata ne sono state somministrate 42.448, cioè il 76,1%. Se è ormai risaputo che una delle criticità maggiori è collegata all'insufficienza delle dosi consegnate, quel che sta emergendo in diversi comuni è anche un problema di organizzazione. In particolare sulle 800 persone in elenco per la vaccinazione riservata agli ultraottantenni di potenza, solo sabato sono state somministrate 642 dosi, ovvero l'80,2%. L'azienda sanitaria del capoluogo che ha organizzato questa fase della campagna vaccinale cominciata lunedì scorso con ogni probabilità riuscirà a concludere oggi nella tenda donata dal Qatar e allestita in uno dei piazzali dell'ospedale San Carlo. A Matera invece si dice preoccupato il sindaco Bernardi che nelle scorse ore ha sollecitato il presidente della regione Vito Bardi sull'andamento del piano. Anche nella città dei Sassi infatti l'ASM è partita lunedì con le somministrazioni di vaccino ai circa 4.500 ultraottantenni. Ma con il ritmo attuale, segnala Bernardi, occorrerebbero circa due mesi per ultimare l'operazione. Nel mezzo ci sono realtà, come Policoro ad esempio, dove in una settimana di persone sopra gli 80 anni ne sono state vaccinate un migliaio, o Grassano, dove, al contrario, la campagna per i 350 anziani è rinviata a data da destinarsi per mancanza di dosi. Nella lettera inviata da una rappresentanza di 21 sindaci lucani alle istituzioni, locali e nazionali, tra le richieste c'è proprio quella di concertare una massiva campagna di vaccinazione con una calendarizzazione puntuale e attendibile che venga implementata in maniera capillare, così da interessare tutti i comuni in maniera equa ed omogenea. La questione è seria anche se si pensa ad alcuni lavoratori che alla vigilia della zona rossa torneranno a svolgere ruoli cruciali. I segretari di Filcams CGL di Potenza e Wiltux di Basilicata scrivono sia a Bardi che al consigliere polese d'Italia Viva per ricordar loro che è sbagliata la scelta di favorire alcune categorie professionali, come quella degli avvocati, proprio mentre i lucani fragili e maggiormente esposti soffrono clamorosi ritardi nella campagna vaccinale. Cambiamo argomento e torniamo ad occuparci del Deposito Nazionale per le scorie nucleari. Oggi anche a Matera la manifestazione organizzata dal Comitato No Scorie di Puglia e Basilicata. Anche da Matera ancora una volta arriva il No al Deposito Nazionale di Scorie Nucleari. Il 28 febbraio a partire dalle 10 del mattino si è svolta una manifestazione in contemporanea nelle piazze reali e virtuali dei comuni in cui ricadono le 17 aree individuate dalla Sogin come zone idonee al deposito. Il Comitato No Scorie in Puglia e Basilicata ha portato dunque in piazza le istanze di cittadini, imprenditori, associazioni e amministrazioni preoccupati per il futuro dei propri territori. Il messaggio ancora una volta è il No secco, unanime, forte della comunità materana al deposito unico delle scorie radioattive. Un No avvalorato da una serie di caratteristiche tecniche che rendono assolutamente insostenibile coniugare o comunque interporre un sito di scorie radioattive con la città capitale europea della cultura, nonché patrimonio dell'UNESCO. Chiaramente noi veniamo fuori da un'esperienza che non possiamo sicuramente trascurare che è quella vissuta nel 2003. Oggi ancora di più questa nuova proposta nazionale di far parte di una pianta dove individua molti comuni della Basilicata ma anche quelli pugliesi come siti idoni all'Escoria nazionale ci deve vedere uniti nella regione e tra le regioni. Il valore più importante è quello della partecipazione e della informazione alle comunità. Per la prima volta le associazioni si sono fatte carico di parlarne in piazza. Noi siamo già messi molto male, abbiamo votato compatti No alle scelte nucleari nel referendum che c'è stato. Ed è chiaro che non possiamo più sopportare ed avere la preoccupazione che si possa ancora continuare a deturpare questo territorio. In un momento storico particolare come questo dove l'agroalimentare dovrebbe essere più che altro sostenuto perché è l'unica industria che in questo momento sta continuando a dare valore al nostro territorio. Oggi arriva un disegno SOGIN di inserire in questo territorio sostenuto e finanziato dalla comunità europea per migliorare l'agricoltura della Basilicata e viene ad impiantare un deposito di scuore nucleare. Credo che sia un controsenso allucinante. Ci spostiamo a Potenza per parlare di un'iniziativa per dire no alla violenza contro le donne. Come nasce l'iniziativa di un gruppo di uomini potentini in difesa delle donne contro la violenza? Nasce in una maniera molto semplice, da un post che feci nel 9 febbraio e dove immediatamente trovai molti amici che sono oggi qui presenti ma anche persone che non conoscevo che immediatamente hanno preso a cuore questa situazione. Essendo genitori e padri noi diciamo basta alla violenza contro le donne, basta, non ce la facciamo più. Noi vogliamo che l'uomo accetti un concetto molto semplice. La donna mette al mondo la vita e non c'è nessuno che può togliere la vita ad una donna. Non possiamo più essere padre padrone, quindi il concetto è ora basta, io ci sono. Si è tutti antenne sul territorio, oltre ai casi nazionali che sicuramente destano scalpore, qual è la percezione nel territorio potentino rispetto a questi fenomeni? Beh, che naturalmente anche il fenomeno qui non siamo più un'isola felice, oramai ci sono anche qui fenomeni, ce ne sono stati e quindi gli uomini che in questo momento anche loro vogliono dimostrare l'apporto contro la violenza sulle donne ci possono tranquillamente contattare perché oggi noi abbiamo rispettato delle normative che sono quelle del Covid e anche ciò che il Comune ha stabilito per l'occupazione del suolo pubblico. Ma tranquillamente possiamo vederci tramite le piattaforme social che esistono e perché? Perché più siamo e più incominciamo a insegnare, più diamo un segnale forte che la violenza contro le donne debba finire. Passiamo allo sport, il calcio a 5. Arriva la terza sconfitta consecutiva per il CMB signor Prestito Matera a Eboli, finisce 2 a 4. E' proprio un periodo o no quello che sta passando il signor Prestito CMB Matera che incassa la terza sconfitta consecutiva, questa volta in casa della Fel di Eboli. Sarà l'assenza del capo cannoniere della squadra, il brasiliano Wilde, sarà che sono state tante le energie che i ragazzi di Nitti hanno messo in campo nelle prime partite del 2021 in cui il CMB ha portato a casa tanti risultati utili consecutivi di cui alcuni davvero straordinari, ma il mese di febbraio ha chiesto un po' il conto ai bianco-azzurri lucani che rimangono ancora al palo, fermi a quota 30 punti in classifica. Al palasele di Eboli finisce 4 a 2 Pellafeldi che piega un CMB Matera che fatica a ritrovarsi. Partono forti i campani che al quarto minuto in 30 secondi mettono a segno un tremendo 1-2 prima con Lusigno di tacco su errore della difesa e poi con Caponigro con un gran tiro da fuori indirizzando subito la partita. La prima frazione di gioco poi si ferma, bloccata in una battaglia giocata soprattutto a centrocampo, anche se entrambe le squadre provano a trovare in diverse occasioni la via del gol. Ancora Lusigno poi a 18.35 trova il gol del 3-0 involandosi verso la porta in 2 contro 1 insieme a Tress. A 14 secondi dalla fine del tempo il CMB riesce ad accorciare Conwell che devia un tiro da fuori di neto. Nel secondo tempo lo spartito non cambia ma il CMB all'undicesimo riesce a trovare il 2-3 con Nicola Arvogno, bravo a fulminare Dalcin dopo un rimpallo. Il CMB prova a trovare il pareggio usando il portiere di movimento ma a 13.51 Patias trova il gran gol che chiude i giochi con un tiro da lontanissimo che Weber non riesce a togliere dal 7. CMB che scivola all'ottavo posto raggiunto a 30 punti proprio dalla fail di Eboli e vede avvicinarsi pericolosamente la zona neutra della classifica che farebbe uscire la squadra di Mister Nitti dalla zona playoff. Prossimo appuntamento dopo la pausa nazionale il 13 marzo quando arriverà a Matera la temibile Meta Catania. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.